Ciao ragazzi e ciao ragazze, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi un nuovo video. Come al solito ragazzi vi ricordo che se vi vuoi potete seguirmi su Instagram, detto questo, andiamoci dietro col video. Ragazzi oggi sono qui per parlarvi di un altro caso che si è potuto sviluppare solo grazie a internet e agli incontri online. Onestamente più vengo a conoscenza di queste cose più mi consiglio di stare lontani da questa applicazione e da questi siti. Oppure di essere perlomeno certi o certi al 100% sull'identità della persona con cui state chattando. Questa storia non è del tutto a lieto fine, un pochino sì, ma c'è sempre quella amarezza che continua a rimanere, almeno per me, al pensiero che così tante donne, uomini, ragazze, ma anche ragazzi, Siamo caduti nella trappola del pensare che conoscere qualcuno online equivalga a conoscerlo nella vita reale. Non è così. Su internet puoi essere davvero chi vuoi, come vuoi e quando vuoi. Puoi fingerti un uomo o una donna di successo, anche se vivi in una roulotte sgandirata e campi con due spicci al mese. Ovviamente questa affermazione non vuole condannare chi vive alla buona, un profondo rispetto per tutti. Anche per i fuori di menone seriali, in quanto, come sapete, cerco sempre di vedere il lato umano di queste persone. Quindi mi spingo a raccontarvi il loro passato, cerco di capire e di riportarvi cosa le hanno portate alla deriva, nonostante le loro gesta siano atroci, su questo non ci piove. In questo caso specifico mi riferisco a chi su internet cerca di conquistare donne o uomini fingendosi un'altra persona, con un'altra personalità, un'altra vita, un altro passato. Diffidate ragazze e ragazzi, diffidate. Non riesco a non ripetervelo sempre quando tocco questi argomenti. Anche perché, per quanto le storie che vi ho raccontato possano essere in un certo senso diverse, e lo sono, la linea rossa che unisce tutti i casi, quindi tutti i video che vi ho pubblicato fino ad ora, è internet. Quindi si sta parlando di forum di incontri, app di incontri o ancora server per giocare online. Le vittime in questi casi non hanno letteralmente età o sesso. Chiunque potrebbe, specialmente oggi come oggi, affidarsi all'incontro online. Oggi infatti parliamo della storia di Wade Ridley e di ben due donne, ossia Mary Kay Beckman e Anne Simonson. Ma come al solito, con calma e andiamo con ordine. Siamo a Las Vegas, nel Nevada, ed è luglio del 2010. Mary Kay Beckman ha 48 anni, è un agente immobiliare e si può dire che conduca una vita perfetta. Fino a quando Tom, l'uomo della sua vita, suo marito, viene a mancare per un infarto. A Mary Kay si spezza letteralmente il cuore. Tom era tutto per lei. In quanto i due erano complici, sì, nella vita privata, ma anche nel lavoro. Infatti Mary Kay e Tom gestivano un'agenzia immobiliare. Adesso però Mary Kay deve riuscire a portare avanti da sola l'attività. Mary lavora con grande passione, l'intera agenzia dipende da lei. E in quel momento non ha davvero voglia di frequentare un uomo. Non solo perché, insomma, la mancanza di Tom si sente, ma anche perché la sua vita è davvero alquanto impegnata. Il tempo passa e ad un certo punto Mary Kay sente che nella sua vita va tutto bene, ma c'è una mancanza. Manca la presenza di un uomo accanto a lei. Tom, suo marito defunto, era alla sua spalla. Ed ora si ritrova a riscaldare i cibi precotti nel microonde. Perché lavora tanto, si sente sola e spaventata. Insomma, la donna sta presentando tutti i sintomi di qualcuno che sta vivendo un lutto. Passa di nuovo un mese e Mary Kay si rende conto di essere circondata da coppiette felici. Anche le pubblicità in tv fanno riferimento ad incontri online, parlano di iscriversi sul sito X o Y per trovare l'amore e vivere tutti felici e contenti esattamente come nelle fiabe. Peccato che la vita non sia una fiaba. La donna si ritrova spesso immersa in discussioni che parlano di matrimonio, amore e felicità. In quanto nel suo lavoro incontra davvero parecchi acquerenti. E molti sono giovani, hanno degli obiettivi che ovviamente gli raccontano. In quanto Mary Kay è un'ottima venditrice, non si limita solo a vendere case, ma ascolta anche bene i suoi clienti per capire cosa potrebbe offrire loro, quale potrebbe essere una casa più vantaggiosa rispetto a un'altra. Diciamo che gli acquirenti alla fine stringevano una sottospecie di rapporto, non dico stretto, ma di conoscenza con Mary Kay. E in effetti lei è molto felice di questo risultato, perché vuol dire che sta facendo bene il suo lavoro. Però dentro sente sempre un palese vuoto. Le manca Tom, ma le manca anche un uomo in generale. A quel punto Mary Kay pensa che anche lei voglia rimettersi in gioco, insomma. Pensa che in un futuro potrebbe ritrovare davvero l'amore e la felicità. Ed è così che decide di cercare la sua metà, proprio su internet. La donna si iscrive al sito di incontri più famoso degli Stati Uniti, ossia Match.com. Mary Kay compila il questionario del sito, quindi compila il suo account, dicendo di avere 48 anni e di amare tantissimo il golf. Sottolinea che ogni volta che può va giocare, odia il fumo, ha i capelli biondo rame ed è in cerca di un uomo. Mary Kay ci ha pensato davvero tanto prima di fare questo passo. Non era troppo sicura inizialmente di voler conoscere altri uomini. Inizialmente si sentiva anche un po' in colpa. Ma effettivamente era passato diverso tempo dalla dipartita di Tom. E la donna sentiva davvero il bisogno di avere nuovamente qualcuno a suo fianco. Era una donna di successo, non le mancava niente, aveva degli amici, mancava solo l'amore. Mary Kay quindi si iscrive a Match.com e si ritrova, dopo essersi iscritta, profili di circa 15.000 uomini che stanno cercando l'amore proprio come lei. E quindi Mary cosa fa? Inizia a frequentare diverse persone. Si limita ad uscire con parecchi uomini ad un singolo appuntamento per poi cestinarli sempre in pratica. Mary Kay vede davvero tanti uomini diversi, alcuni sono addirittura dei tipi molto molto particolari. Ma non si spinge neanche mai a dargli un bacio, semplicemente esce per conoscerli. E in effetti Mary Kay ha la possibilità di incontrare parecchie persone, perché è anche una bella donna. Ma non trova nessuno che le piaccia o che la convinca a portare avanti la conoscenza. Insomma, in breve, Mary Kay non trova nessuno che le fa nuovamente battere il cuore. Ed è quello che la donna ricerca. Quindi Mary Kay semplicemente esce con tanti tizzi a bere qualcosa. Nulla di più. Dopo circa un mese dall'iscrizione, Mary Kay pensa sia giunto il momento di smettere di frequentare quel sito. Non trova nessuno di suo gradimento e non è che abbia conosciuto proprio due uomini. Fino a quando arriva una sera, il cellulare di Mary Kay suona e la donna riceve un messaggio da un uomo che tutto sommato trova piacevole. Si chiama Wade Ridley. I due quindi iniziano a chattare e da subito scoprono di avere un sacco di cose in comune. Infatti, nella fotoprofilo del suo account, Wade indossa un Apollo e si trova sul prato di una piccola collina. Quello sembra proprio un campo da golf e Mary Kay, vista la sua passione, non manca di chiederglielo. In poco tempo Mary Kay scopre che Wade lavora in un campo da golf e gli piace anche tanto praticare questo sport. Quella sera i due si salutano in quanto è tardi e il giorno dopo Mary sarebbe dovuta andare a lavoro. Ma la mattina dopo Wade non manca di ricontattarla per sapere come stia. Mary Kay è felice, sembra un uomo garbato, a modo, serio, però vorrebbe sapere qualcosa in più su di lui. Qui inizia a fargli qualche domandina, gli chiede se fuma, se beve, se ha figli. Ma Wade sembra un uomo perfetto, non ha figli, non fuma e ogni tanto beve qualche birra davanti a una partita di football. C'è però un'altra cosa che Wade le dice. Le dice che è stato sposato, poi è divorziato e è diventato il patrigno della figlia della sua ex moglie. I due si sentono quindi tutto il giorno. Wade le dice che si era trasferito da poco a Las Vegas e dopo il divorzio aveva frequentato una donna di Phoenix che faceva il suo stesso lavoro. Ora, l'ex fidanzata di Phoenix, di Wade, si chiama Anne Simonson. E Mary Kay non sa che loro due hanno più cose in comune di quanto lei creda. Anne fa la gente immobiliare, proprio come Mary. Ha i capelli biondoramati, proprio come Mary. E infine, ciliegina sulla torta, Wade ha conosciuto Anne esattamente come ha conosciuto Mary. Ossia, tramite un sito di incontri. A questo punto Wade è riuscito a fare colpo su Mary Kay, quantomeno online. Ed ora vuole passare al lato pratico, quindi le chiede di uscire. È il 26 settembre del 2010, quando Mary Kay compie quel passo. E decide quindi di incontrare il suo ammiratore online dal vivo, ossia Wade. Mary tuttavia non è una donna sprovveduta e contatta sempre Teresa McBain. Che è una sua grande amica e collega, per informarla su chi avrebbe dovuto incontrare e su dove sarebbe andata. Mary tiene aggiornata la sua amica sui vari spostamenti. Perché sa quali sono i rischi che si celano dietro l'incontrare persone conosciute online. Mary Kay quindi esce. E va al ristorante dove lei e Wade si erano dati appuntamento. Appena Mary entra nel ristorante, Wade si presenta come un perfetto gentiluomo. Si alza, si presenta addirittura nascosta alla sedia per farla accomodare. Quelle sono effettivamente piccolezze che però Mary nota. La garanteria non va più troppo di moda, ma lei la apprezza. E anche parecchio. Mary quindi inizia a chiacchierare con Wade, che è decisamente un bel ragazzo. Esattamente come nella foto su Match.com. La donna rimane colpita dalla sincerità di Wade. La considera davvero un'ottima qualità. L'uomo appare davvero gentile e onesto. I due parlano del golf, delle loro passioni. E Mary si sente per la prima volta, dopo diversi appuntamenti con uomini conosciuti online, a suo agio. Wade non è imbarazzo, non è imbarazzante, è carino, è dolce. Le offre la cena e addirittura le apre la porta del ristorante per farla uscire. Mary dal canto suo è davvero colpita dal suo comportamento galante. E inevitabilmente inizia a fantasticare su Wade. Dopo una cena, appena Mary rientra a casa, riceve un messaggio da Wade, che le chiede se fosse tornata a casa, fosse tutto a posto. E anche lì, Mary rimane colpita da quell'uomo che si dimostra così tanto premuroso nei suoi confronti. Due giorni dopo il loro primo appuntamento, i due si rivedono. Si rincontrano, escono di nuovo, ridono, si divertono. Mary Kay si sente così tanto tranquilla con Wade, che a un certo punto lo invita ad un'uscita con i suoi amici per un fine settimana di solo golf. I due quindi passano nelle giornate successive a giocare a golf con gli amici di Mary Kay. E dopo quel weekend la donna è sempre più colpita. Mette insieme tutti i pezzi di puzzle dei giorni passati assieme. Quindi, l'onestà di Wade devono spiegarle tutto riguardo il suo matrimonio e il suo successivo divorzio. La dolcezza, la galanteria. L'ha addirittura presentato ai suoi amici e hanno passato tutti quanti il weekend da favola. Quindi Mary Kay fa un altro passo. Decide di invitare Wade a casa sua. Ma la verità è che Wade, nonostante sia stato effettivamente onesto sul suo matrimonio e sul suo divorzio, che ne è comunque nascosto a Mary Kay in un segreto. Il segreto più oscuro. Mary quindi è a casa sua con Wade. Sono tranquilli sul divano, sorseggiano un calice di vino. Quindi Mary ne approfitta per fare all'uomo qualche domanda. Gli chiede di parlargli del suo matrimonio in un modo un po' più specifico. Gli chiede di parlare della sua figliastra e del motivo per cui avesse divorziato. E infine Mary non si fa sfuggire una domanda sulla sua ex finanzata di Phoenix. Quindi chiede a Wade chi fosse, cos'era successo, perché era andata male, cose del genere insomma. A quel punto Wade abbassa lo sguardo e dice queste esatte parole. Sai Mary, visto che siamo in argomento mi sento in dovere di dirti una cosa riguardo alle nostre relazioni passate. Perché sai, l'ultima relazione che ho avuto non si è conclusa bene. Abbiamo avuto delle discussioni e dei problemi. Lei quindi ha ottenuto un'ingiuzione restrittiva nei miei confronti. Wade comunque minimizza tutto dicendo, è stata una stupidata. Lei raccomenta che io ero in grado di fare certe cose, ma invece non era così. Litigavamo spesso, poi lei si è spaventata e anch'io, tutta la faccenda è così stupida. A questo punto Mary Casey dice che spesso la vita è complicata. Di conseguenza non vuole arrivare a giudicare Wade così in fretta, non le pare giusto. L'uomo comunque le dice che sia lui che la sua ex fidanzata di Phoenix avevano richiesto un'ingiuzione restrittiva. Non solo lei. Mary si dice che devi avere dei motivi ben precisi per richiedere l'ingiuzione restrittiva verso qualcuno. Insomma, doveva essere successo qualcosa di grave da entrambe le parti. D'altronde l'avevano chiesta per entrambi. Mentre Mary è lì che riflette sulla cosa, Wade fa un po' il dolcino e poi glielo dice. Sai Mary, tu mi piaci molto e credo che tra di noi stia nascendo qualcosa. Oh eh ragazze, ragazze, penso che il punto sia più o meno sempre lo stesso. Queste due persone si conoscono letteralmente da uno starnuto. Sono usciti insieme due volte e hanno passato tre giorni di fila assieme per la vacanza passata sui campi da golf. In cui non erano neanche soli, perché c'erano gli amici di Mary Kay. A me onestamente risulta molto strano che un uomo adulto vada a dire una cosa del genere di una donna adulta. Sul serio, mi sembrano uscite da un libro trash brutto o ancora peggio da un film di Moccia. A questo punto io mi chiedo, ma una situazione del genere non rappresenta già essa stessa un campanello d'allarme immenso? Conosci un uomo, lo frequenti per due settimane e questo già inizia a farti filipiche sul mi piaci tanto. Guarda caso, appena mette piede a casa tua e si siede sul tuo divano. Io due domande me ne farei. Mary in ogni caso non è che si sbilanci così tanto, ossia gli dice quello che pensa dal primo giorno in cui l'ha conosciuto. Si limita a guardarlo e a dirgli che apprezza tanto la sua onestà. Basta. Lui a quel punto l'abbraccia, le dà un bacino sulla fronte e pare che la discussione sia conclusa lì. I due si salutano e Mary effettivamente riflette molto sulla situazione. Arrivando alla conclusione che se qualcuno non ti nasconde il suo passato e ti racconta di sua spontanea volontà non solo le cose belle ma anche le cose brutte, non solo le cose giuste ma anche quelle sbagliate, allora questo la dice lunga sul suo carattere. È una persona affidabile, almeno secondo Mary Kay. I giorni quindi passano, i due passano del tempo assieme, fino a quando non arriva una mattina. È domenica e Wade e Mary sono in cucina assieme perché stanno preparando il pranzo. Ad un certo punto il cellulare di Mary squilla, lei fa per rispondere. Nel frattempo Wade la osserva, la scruta e poi lentamente si avvicina a lei, alle sue spalle e poi le chiede di colpo. Con chi stai chattando? Mary Kay risponde in modo naturale, è solo un cliente. Spesso dei clienti mi mandano dei messaggi per avere delle informazioni. Il tono di Wade a questo punto si fa sospettoso. La guarda le dice, ah perché? Ti scrivono di domenica? Mary Kay a quel punto cerca di sviare la domanda perché si rende conto che è semplicemente una stupida scenata di gelosia che non ha nei capo le coda. Ma Wade insiste, le va vicino e le dice, beh quindi rispondimi, lavori anche la domenica? Mary a quel punto lo guarda e gli dice, io lavoro sempre, sempre, perché l'agenzia è mia, non è di pinco pallino, è mia, sono io che la gestisco e se qualcuno mi manda un messaggio di domenica io devo essere reperibile e devo anche rispondere perché è il mio lavoro. Wade a quel punto insiste sempre, tartassante e le richiede. Ah, ma quindi lasci il tuo numero personale ai clienti? Mary non ha assolutamente nulla da nascondere, quello è il suo lavoro, è la sua agenzia immobiliare ed è naturale conservare sul proprio cellulare i contatti dei vari clienti. Mary Kay però a questo punto alza le antennine e inizia anche un attimino a infastidirsi perché non è più una ragazzina e quindi scenate come queste non le accetto tanto facilmente. Quello è il lavoro di Mary Kay e non sono affari di Wade. Anche perché, vi ricordo, i due non è che si conoscano da tanto, capisco che sembra che abbiano fatto un sacco di cose, però davvero, probabilmente si conosceranno da quattro settimane? Però Wade fa lo sborone, pensa di saperla lunga perché la sua ex Anne faceva il suo stesso lavoro, il problema è che Anne era una dipendente, non aveva un'agenzia immobiliare da gestire, sono due cose un tantinello diverse. Quindi Wade inizia a farne delle domande a Raffica non contento di aver già fatto una figura barbina chiedendole, ma questi clienti quindi cosa vogliono da te? Perché hanno il tuo numero personale? Non hai un ufficio? Ce l'hai, no? E allora perché non ti contattano lì durante le ore di lavoro? A quel punto Mary si gira, lo guarda intorno alquanto seccato e gli dice, prima di tutto mi chiamano perché sono clienti e vogliono sapere cose da clienti. In secondo luogo sì, io ce l'ho l'ufficio, ma se qualcuno vuole reperirmi il weekend può farlo tramite il mio telefono personale. E poi ribatte dicendo, l'unica cosa che mi chiedono i clienti sono i prezzi sulle case, delle informazioni sulle case e cose del genere, di certo non mi vengono a raccontare i loro segretini. Mary Kay è davvero davvero infastituita, quindi che cosa fa? Fa finta di niente, dice di dover andare in bagno, va in bagno, apre l'acqua del rubinetto per far scorrere l'acqua e poi inserisce un pin sul suo cellulare. Wade a questo punto non può neanche per sbaglio spiare le sue conversazioni. In caso magari Mary lasci per casa il suo cellulare incostudito. A questo punto Mary si sta rendendo conto che il comportamento di Wade è un po' troppo invadente, però vuole ancora dargli il beneficio del dubbio. Quella domenica comunque i due dovevano uscire, quindi fanno finta di niente, escono, ma pare che la complicità presente solo la sera prima, ora, non ci sia più. Mary Kay per quella domenica ha organizzato una cena con la sua amica Teresa e suo marito Mike al golf club. Appena Wade e Mary Kay arrivano, Wade chiede immediatamente a Mary Kay di passarle il cellulare, perché sostiene di voler controllare il risultato di una partita. I due sono ancora in macchina e Mary a questo punto gli risponde, guarda che posso farlo io, non c'è problema. Ma Wade continua a dirle, no, no Mary, non ti preoccupare, lo faccio io, ci penso da solo, non sai in che sito andare, dammi il telefono, dammi il telefono. conclude ogni singola frase con dammi il telefono. Io vi giuro una persona del genere il telefono gliel'avrei spaccato sulla fronte, ma in ogni caso. Mary sto diavolo di telefono non glielo dà, non glielo vuole dare, ma Wade ancora non ha capito questa cosa. Gli dice non preoccuparti, ci mette un secondo, infila la password e poi entra nel sito e fa vedere a Wade il risultato di quella dannata partita. Dopo questa parentesi frizzantina i due finalmente escono dalla macchina e si dirigono verso l'entrata del golf club. Ma non è ancora finita qui, perché Wade riparte chiedendole, Mary ho dimenticato una cosa in macchina, puoi darmi le tue chiavi e il tuo cellulare? Mary a quel punto infastidita da morire lo guarda e gli dice, ma si può sapere che diavolo vuoi dal mio cellulare? Ti serve quello per aprire la macchina? Devi cercare la guida come aprire la macchina sul mio cellulare altrimenti non ce la fai? Non ti serve il mio telefono, prendi le chiavi e vai in macchina. Lui però insiste, non molla, continua a dirgli, no no fidati mi serve dammi il telefono. Mary a quel punto si scoccia, si gira dall'altra parte, gli dà proprio il sedere e fa per entrare al ristorante, anche abbastanza incazzatella. Lui addirittura la strattura per un braccio e ancora osa dirgli dammi il telefono, lei lo guarda e gli dice, no smettila. Lo allontana con una sfintarella e si dirige all'interno del ristorante. Entrate nel ristorante Mary? Mary è consapevole di una cosa, ne è sicura, quella sarebbe stata l'ultima serata che avrebbe passato con Wade, in quanto il suo comportamento non andava affatto bene. Mary Kay comunque non vuole rovinare la cena, quindi fa finta di nulla, entra nel ristorante e saluta calorosamente i suoi amici, per poi bisbigliare alla sua amica che lei e Wade avevano litigato. Come vi ho già detto Mary non vuole rovinare la serata a nessuno, quindi fa finta di nulla. e iniziano a cenare in questo ristorante. Il punto è che, a quanto pare, Wade, oltre ad essere un giloso patologico, è pure un gran contaballe, in quanto dice di aver incontrato proprio in quel ristorante un giocatore specifico di Hockey, quando il marito di Teresa, ossia l'amica di Mary Kay, era stato proprio un giocatore professionista di Hockey. Di conseguenza Mike, il marito di Teresa, cosa fa? Drizza bene le antennine. Wade nomina giocatori a casaccio senza sapere di avere di fronte Mike, il marito di Teresa, che conosce tutte le persone che nomina Wade. Tutte, nessuna esclusa. E mica è scemo Mike, è consapevole che Wade non può conoscere quelle persone, altrimenti si sarebbero già incrociati in passato, cosa che non è mai accaduta, ma soprattutto quelle persone non hanno neanche mai per sbaglio nominato un certo Wade Ridley. Mai. In pratica Mike si rende conto che Wade è uno che ha proprio la bocca larga. Gli piace raccontare un po' di balline, diciamo così. Ed è proprio per questo motivo che la cena inizia ad essere un pochettino imbarazzante. I silenzi si fanno imbarazzanti e Mary sa benissimo che Wade, quando ha fatto il suo racconto sui giocatori di Hockey, stava dicendo delle gran fregnacce. L'ha capito anche lei. Il punto è che Wade a questo punto fa una scenata. Così, da Blay. Appena torna un minimo di silenzio inizia a sbrettare dicendo che c'è? Il cibo non è buono qui? Ah no, ma forse il problema sono proprio io! E qui, ecco che entra in gioco la finta vittima, perché continua dicendo forse era proprio meglio che non venivo. Teresa, l'amica di Mary Kay, a quel punto inizia a pensare che quel Wade sia un tipo losco, strano, ed acquisterà la larga. Wade vuole finire la sua scenata, quindi cosa fa? Si alza, paga e chiede a Mary di andare via. Mary si scusa con i suoi amici, ma almeno quella serata è servita a qualcosa. È servita a farle aprire gli occhi del tutto. Mary a quel punto è sicura al cento per cento di voler chiudere i rapporti con Wade. Letteralmente Mary non lo vuole più vedere, neanche col binocolo. Tuttavia Mary al ritorno in macchina fa finta di nulla e quando Wade la ricompagna a casa, Mary gli dice che è stata una lunga giornata, lì domani si sarebbe dovuto alzare molto presto perché aveva un'importante riunione di lavoro e quindi saluta Wade dandogli la buonanotte senza neanche farlo entrare in casa. E questo già è un campanello d'allarme per Wade perché non è mai successo da quando è entrato per la prima volta a casa di Mary che dopo una serata lei lo congedi in questa maniera insomma. Mary Kay poi entra in casa, si sistema un attimo, si rinfresca e poi prende la decisione, afferra il telefono e manda un messaggio a Wade dicendogli voglio una pausa. A quel punto Mary Kay è convinta di esserselo tolta dalle scatole. Dopo qualche giorno neanche ci pensa più ed è in questo modo che i giorni diventano mesi e i mesi diventano tre. Mary Kay a quel punto va avanti con la sua vita, continua ad essere molto felice, riprende in mano le redini della sua vita e torna a lavorare con ancora più dedizione, con ancora più voglia di fare. Mary Kay pensa ancora a Tom ogni giorno, pensa che sarebbe dovuto rimanere accanto a lei ma è un pensiero fugace. Alla fine se Tom se n'è andato, pensa Mary, è perché il destino o chi per esso l'ha voluto con lui. Andando avanti Mary inizia una storia d'amore con un altro uomo conosciuto attraverso il suo lavoro. Mary insomma ha capito che è il caso di conoscere qualcuno alla vecchia maniera. Le chat online non fanno proprio per lei. Finalmente Mary è felice, non pensa più a Wade ma mentre Mary Kay continua la sua vita come se nulla fosse, Wade Ridley si sente davvero davvero perso. In quei tre mesi Wade non ha né superato né accettato la rottura con Mary Kay. Arriva il 2011 e quello è un anno che per Mary si apre con le migliori premesse. E in effetti fino a circa fine gennaio 2011 tutto va per il meglio. La sua agenzia va alla grande e il tempo libero lo spende passandolo con i suoi amici. A volte guardano insieme un film, discutono di serie tv, escono fuori a berse una birra insomma sono un gruppo di amici normali. Ad un certo punto arriva il 21 gennaio, Mary è fuori con degli amici ma lì saluta presto e sale in macchina verso le 21 e 30 in quanto il mattino dopo avrebbe avuto un appuntamento di lavoro importante e quindi decide di ritornare a casa per poter riposare un po' di più. Arrivata davanti casa sua Mary Kay si rende conto che la porta del garage è aperta. C'è qualcosa che non va perché lei non l'aveva certo lasciata così. Quindi Mary Kay va a controllare e si rende conto che la luce del garage non si accende. Purtroppo Wade la sorprende da dietro le spalle, la fa cadere e inizia ad usare il coltello contro di lei fino a quando non gli si spezza la lama. Dopodiché inizia a prenderla a calci. Quella è davvero un'aggressione estremamente violenta che effettivamente nessuno ha visto anche se la vicina di Mary Kay ha sentito le sue urla e quindi è andata a controllare. E meno male oserei dire che è andata a controllare perché Mary Kay non è venuta ancora a mancare. Purtroppo però è in fin di vita. Mary sa per venire a mancare soffocata dal suo stesso sangue. Di conseguenza chiama il 911 e un'ambulanza. Nel frattempo Wade Ridley prende la borsa di Mary Kay e scappa. Wade durante la frequentazione con Mary si è dimostrato eccessivamente geloso. Ma questa aggressione davvero prima di tutto brutale e poi a quanto pare immotivata. Ci deve essere un motivo e il nuovente probabilmente è qualcosa che Wade ha nascosto a Mary. Ed ora è ben intenzionata a continuare a colpire e la sua prossima vittima è già ben incisa nella sua testa. Wade guida verso il sud di Las Vegas mentre Mary Kay è in sala operatoria. Le sue condizioni sono gravi tanto che i medici non possono garantire la sopravvivenza della donna a genitori, parenti e amici. Mary purtroppo durante l'aggressione ha subito anche dei colpi alla testa che le hanno danneggiato il cervello. Nonostante questo però Mary supera l'operazione e dopo qualche giorno viene dimessa dall'ospedale a prendersi cura di lei. Sono i suoi amici. Wade nel frattempo ha lasciato del tutto la città ed ha in mente un altro piano perché lui ha un affare in sospeso. Nel frattempo Mary Kay viene interrogata dalla polizia per capire l'identità dell'aggressore. La donna però purtroppo soffre di amnesia post traumatica. Questo significa che non ricorda niente, non ricorda l'identità del suo aggressore purtroppo. Questa situazione la rende anche alquanto frustrata in quanto si chiede in continuazione perché mai qualcuno l'abbia ridotta in quel modo. Ogni volta che si guarda allo specchio Mary Kay stenta a riconoscersi e davvero non riesce a capire chi possa essere stato a farle così tanto del male. Mary di conseguenza non è in grado di fornire alcun dettaglio e l'aggressione di Mary non ha avuto testimoni. Quindi la polizia si trova davanti ad un caso che appare irrisolvibile. Fino a quando sulla scena del crimine la polizia rileva delle prove alquanto importanti. La polizia è sicura che l'aggressione non è stata assolutamente casuale. L'aggressore di Mary secondo la polizia è una persona di sua conoscenza e infatti iniziano a interrogare gli amici di Mary Kay. In breve tempo tutti diventano sospettati ma vengono anche scagionati perché non c'era mezza prova contro di loro. Oltretutto c'è anche da sottolineare un'altra cosa. Wade Ridley è solo uno dei tanti uomini che Mary ha conosciuto online e ha frequentato per breve tempo. Non è l'unico. Di conseguenza è davvero davvero complicato risalire a lui. Se col suo account di Match.com le avesse inviato qualche minaccia almeno ci sarebbe stata una mezza traccia da seguire. Ma in questo caso non c'è la traccia da seguire. Assolutamente. La polizia brancola letteralmente nel buio. Fino a quando sulla scena del crimine la polizia non rileva delle cose chiaramente importanti. Ci sono delle chiare impronte digitali sul manico di un coltello che molto probabilmente è stato usato per colpire Mary Kay. Ma quando la polizia inserisce queste impronte digitali nel database non trova alcun risultato. A questo punto però noi lo sappiamo. Wade Ridley è una persona disturbata. Ma soprattutto cosa più importante è capace di una violenza assurda e disumana. Arriviamo a Phoenix in Arizona il 10 febbraio del 2011. Wade è lontano 500 chilometri da Las Vegas e sono passate tre settimane dall'aggressione a Mary Kay. Wade ora è di nuovo pronto a colpire. Cosa fa quindi? Si dirige a casa della sua ex fidanzata Anne Simonson. Romo racconta a Mary che lei ha ottenuto un'ingiunzione restrittiva nei confronti di Wade ma la verità su ciò che è accaduto quattro anni prima è decisamente un'altra. Quindi facciamo un gran balzo indietro e agosto del 2006 è Anne e Wade vivono insieme a Phoenix. Anne è appena ritornata a casa. Wade la sorprende sul viaretto chiedendone immediatamente dove sei stata? Anne risponde un po' timorosa ero fuori con delle amiche lo sapevi no? Te l'avevo detto. Wade gli chiede ma chi sono queste amiche? Anne lo guarda e cade dal pelo e infatti dice ma sono Sofia e Jennifer sono le mie amiche da una vita. Anche in questo caso Wade fa una scenata e tira fuori un pinzone gigantesco da giardino iniziando a urlare contro Anne dove sei stata? Dimmelo lo so che non sei stata con le tue amiche con chi sei stato? Chi è lui? Anne a quel punto si spaventa e preoccupata che il tutto si concluda non nei migliori dei modi ma grazie a dio c'è sua sorella in casa che appena nota la situazione si precipita a prendere una calibro 38 che teneva nascosta esce fuori da casa e la punta verso Wade. L'intima di allontanarsi altrimenti avrebbe chiamato la polizia. Anne dopo un bel po' di tempo ha il coraggio di raccontare questa cosa al suo nuovo compagno ossia Glenn Calai. Sappiamo quindi che dopo aver minacciato Anne quattro anni dopo Wade torna per vendicarsi. Tanto per cambiare anche lui entra nel garage di Anne. La sorprende la trascina nella stanza del bucato e poi le toglie la vita. Purtroppo questa volta Wade ha colpito nel modo giusto. Di conseguenza a questo punto Wade cosa fa? Sale in casa, prende un po' di orologi, gioielli, la carta di credito e i vestiti di Glenn ossia il compagno di Anne. Queste sono di fatto tutte cose che possono essere impegnate in cambio di soldi. Dopodiché Wade sale sull'auto di Anne e si dà la fuga. La polizia ancora non sospetta di Wade e lui a questo punto ha già un altro piano in mente. Tornare a Las Vegas proprio per capire se è riuscito a togliere di mezzo Mary. Però ora c'è anche Glenn, il fidanzato di Anne. E lui l'ha persa, definitivamente Anne. Di conseguenza vuole scoprire a tutti i costi cosa si è successo ad Anne, chi può essersi intrufolato in casa. Insomma è sempre difficile superare un lutto e infatti Glenn si ritrova a non riuscire più a dormire la notte, a soffrire di insonnia. Ma una notte in particolare Glenn racconta di aver avuto la sensazione quasi che Anne lo stesse chiamando, dicendogli guarda nel computer e lo troverai. In ogni caso, sensazione o meno, Glenn è in cerca di prove. Quindi accena il computer ed entra nel sito della sua carta di credito, quella rubata da Wade e scopra dei pagamenti. Glenn riesce a ricostruire il percorso di Wade perché sa che quella carta nelle ultime dieci ore è stata usata per tre volte. Glenn quindi riesce ad individuare il percorso di Wade in quanto risulta che nelle ultime dieci ore quella carta è stata usata per ben tre volte. Glenn quindi cerca di trovare i posti dove Wade potrebbe averla usata e scopre che si era fermato a fare benzina ed era diretto a Nord. A questo punto Glenn contatta la polizia di Phoenix che sta indagando sulla dipartita di Anne e dice senza mezzi termini so dove è andato e so dove sta andando. Gli agenti ovviamente gli chiedono come fa ad avere tali informazioni visto che non lo sanno neanche loro. Glenn risponde eh beh sta usando la carta di credito che mi ha rubato. A questo punto i poliziotti dicono a Glenn non chiami la banca non faccia niente perché noi vogliamo vedere dove è diretto. Ebbene Wade sta andando verso Las Vegas quindi i poliziotti di Phoenix si mettono in contatto col dipartimento di polizia di Las Vegas spiegando che il veicolo che sta guidando Wade Ridley il sospettato era di proprietà di Anne una donna che è venuta a mancare a causa sua. La polizia di Phoenix è determinata a fermarlo quindi organizzano un piano. Devono fermare tutti i veicoli come quello indicato dalla polizia perché alla guida potrebbe esserci il colpevole. Lo stesso che probabilmente sta usando la carta di credito di Glenn. Di conseguenza Wade è un uomo pericoloso e la polizia deve fermarlo prima che colpisca di nuovo. E così mentre Mary Kay Beckman cerca di guarire dall'aggressione subita l'uomo che di fatto l'ha aggredita sta scorrazzando libero nelle strade della sua città. Dall'aggressione di Mary Kay sono passate tre settimane ma la donna ancora non si ricorda chi possa averla colpito per ridurla in quello stato. Il trauma ha letteralmente bloccato la sua memoria e tutt'oggi sostiene di non ricordare nulla. La mattina in cui Wade ha fatto fuori la sua ex fidanzata Anne Simonson a Phoenix l'ufficio di Mary Kay riceve una chiamata un po' stranetta, particolare. Wade chiama quindi l'ufficio dell'agenzia di Mary Kay e chiede di poter parlare con una certa Mary. Tutti però in agenzia conoscono Mary con il nome Mary Kay oppure Anne Kay. Di conseguenza la segretaria consapevole della recente aggressione si insospettisce e dice semplicemente qui non c'è nessuna Mary mi scusi e butta giù il telefono. Ebbene Wade Ridley sta cercando di capire se Mary Kay è ancora in vita oppure no. A seguito della chiamata giunta in ufficio la centralinista ovviamente avvisa Mary Kay. La chiama e le sfiga che ha chiamato un uomo che voleva parlare con una certa Mary e a quel punto tutti quanti vanno in allerta. Quando Mary Kay racconta agli amici la cosa tutti quanti vanno in allarme però sono anche pronti a proteggerla. Sono sempre a casa sua da lei. Fanno addirittura dei turni in modo che Mary Kay non rimanga mai da sola. Intanto sappiamo che Wade è riuscito ad entrare in casa delle sue vittime senza troppa difficoltà e si sta preparando per agire di nuovo. A questo punto cosa fa Wade? Compra un coltello da cucina e su un cartone segna letteralmente la sua lista nera ossia scrive i nomi delle persone che l'avevano fatto stare male e che avrebbe dovuto togliere di mezzo. La prima della lista è Mary Kay, la seconda è Anne Simonson che però è già fuori dai giochi. Dopodiché Wade segna sulla sua lista la sua ex moglie, il suo nuovo compagno e il suo ex capo e pensa che presto colpirà per sistemare tutti quanti. intanto però c'è un problema perché Mary Kay è sopravvissuta e lui deve tornare per concludere il suo lavoro. Nel frattempo gli agenti sono alla ricerca dell'auto di Anne Simonson perché sono sicuri che alla guida ci sia il colpevole. Wade è riuscito a scappare da due scene del crimine, ha passato il confine dello stato però la sua fortuna sta per terminare. Un agente infatti si insospettisce vedendo un veicolo targato Arizona quindi lo insegue e lo fa costare per un controllo e in effetti alla guida di quell'auto c'è proprio Wade. è il 13 febbraio del 2011 sono le 4 e 36 del mattino. Wade non solo aveva già colpito ma come abbiamo capito ampiamente in questo video voleva colpire di nuovo. I detective quindi lo arrestano e lo conducono al dipartimento di polizia di Las Vegas dove lo interrogano circa il crimine contro Anne Simonson ebbene l'uomo ammette la sua colpevolezza e peraltro confessa anche di aver aggredito Mary Kay Beckman ma è lui che decide di confessare perché la polizia ancora i due fatti non li aveva collegati. C'è da dire però che la confessione di Wade in modo in cui confessa aiuta gli amici e i parenti vicino alle vittime a farsene una ragione in quanto Wade spiega che era frustrato dal fatto che Mary Kay l'avesse scaricato malamente. Wade sostiene che Mary Kay l'abbia buttato come un sacco della spazzatura quindi racconta di essersi inferocito perché si è sentito proprio usato. Definisce le sue aggressioni totalmente personali e confessa un altro segreto che in effetti potrebbe essere il motivo scatenante delle sue azioni. Wade mentre stava frequentando Mary Kay assumeva dei medicinali per curare il subipolarismo e la sua grave condizione mentale. Durante l'interrogatorio infatti Wade confessa più volte di aver tentato di farla finita. Quando Mary Kay l'ha lasciato Wade è andato a San Francisco dove in effetti ha cercato di spedersi la vita solo che è stato scoperto quindi è stato ricoverato in ospedale psichiatrico e rilasciato dopo appena tre settimane. Wade dopo questa parentesi quindi è tornato a vivere a Las Vegas e dopo aver rivisto Mary Kay sostiene di aver deciso di mettere in pratica il piano che aveva immaginato. Wade è un individuo sociopatico in quanto non prova alcune emozioni nei confronti di ciò che ha fatto. Nel febbraio 2012 Wade Ridley viene processato nel Nevada e condannato per tentato omicidio ai danni di Mary Kay ricevendo una condanna non inferiore ai 28 anni e non superiore ai 70 anni di reclusione nella prigione del Nevada. L'uomo in questo caso ha ricevuto il massimo della pena. Arriva poi il 29 aprile 2012 quando Wade Ridley poco prima del processo per l'omicidio di Anne Simonson si toglie la vita in carcere. Dal giorno della sua aggressione Mary Kay è riuscita a guarire in un modo davvero sorprendente anche se tutt'oggi sta lottando per superare questo trauma. Questo caso ragazzi lo trovate interessante perché continua a vedere nei carnefici delle vittime. Wade per primo era vittima di problemi mentali chiaramente non curati adeguatamente. Di conseguenza mi viene naturale pensarlo come vittima della sua malattia. Il punto ragazzi e ragazze che ha potuto fare davvero tante cose senza neanche essere sfiorato per sbaglio e questo è un problema. Una persona con un disagio psicologico va aiutata, va seguita in quanto da quel che ho capito quasi sempre facendo questi video dietro ad un carnefice spesso e volentieri c'è anche una vittima con dei problemi psicologici peraltro. In alcuni casi sono presenti in altri meno ma quasi in tutti i casi c'è qualcuno che presenta qualche problematica. Il mio dispiacere va ad Anne Simonson una donna che è venuta a mancare dopo essersi allontanata da Wade per quattro anni. Anne si sentiva chiaramente al sicuro non immaginava in alcun modo che il suo ex potesse colpirla in quel modo e invece è successo anche dopo quattro anni. Detto questo ragazzi ho finito di sprolocchiare in questo video ovviamente se vi va fatemi sapere qua sotto cosa ne pensate di questo caso scrivetemi quello che volete ma soprattutto lo conoscevate? L'avevate già sentito? Noi ci vediamo prestissimo al prossimo video io vi mando un bacione mi raccomando fate i bravi e continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene. Ciao ragazze ciao ragazze